l'ossetto della fortuna l'ossetto del Consenso ah si cari si 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 un peccato e pago il insaporire questo adesso noi lo facciamo nella maniera tradizionale ok ma ma si costa continuamente a cuocere a bassa temperatura. Senti, senti come cambia il rumore che fa. Magari in sardegna te l'hanno dato di pecora, sarda. Il giro del giro del giro è in un cazzo. Anche abbiamo avuto più sardegno per fare il uomo, e poi abbiamo trovato un po' percorso e un po' percorso. Ed è importante fare un nuovo po' percorso. E' un po' percorso e un po' percorso. Di questo punto, anche se non si può fare un po' percorso. Iniziamo a fare un po' percorso. E' un po' percorso. Percettare l'arrivo che si può fare un po' percorso. E' un po' percorso. Ci sono un po' percorso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.